38enne lui, L.L, sorvegliato speciale, albanese l'altro, l'hotel, l'hotel Atlante a Bariatica, in via del Concordato. Sembrava una serata tranquilla passata con il karaoke, invece si è protatta fino alle 3 del mattino quando sono tirati fuori i coltelli, sì i coltelli, l'arma bianca. È iniziata la rissa all'interno di questo hotel, guardate bene, lounge bar dell'hotel Atlante e si è protratta fino alla zona antistante del parcheggio. L'italiano ha colpito con diversi fendendi l'albanese e lo stesso ha sfiorato con una coltellata l'italiano al collo, ma soprattutto c'è stato il fragore di due colpi d'arma da fuoco che hanno raggiunto l'italiano al basso ventre, all'altezza dei remi e dell'addome. I soccorsi sono stati immediati perché l'albanese ha dato l'allarme tramite l'aiuto di alcuni residenti che sono stati svegliati dai colpi d'arma da fuoco. I soccorsi del 118 hanno portato l'albanese a Giulianova e l'italiano all'ospedale di Atri dove ha subito un'operazione, non dovrebbe correre pericoli di vita. I residenti chiedono ovviamente maggiori sicurezza e controllo, i carabinieri di Teramo e del comando provinciale stanno indagando ovviamente sull'ambiente dello spaccio di droga, sull'usura e sulla prostituzione. E se avete sentito qualcosa? No. È successo alle 4 di questa mattina? Così è stato detto. Io sono andato a letto presto. Si è sentito qualcosa? No, no, no. Vi sentite sicuri qui al bariatica? In questo momento no, sicuramente qua vicino. Quest'uomo è venuto a suonare verso le 3 il campanello? Eh, ha chiesto di qualcosa, quello urgente. Era ferito? Non lo so, un ricarboniare che stava dentro. Si è spaventato? No, io no, perché stavo familiare. E poi è arrivata la tubulenza? Si, è arrivata la tubulenza, i carabinieri, i maestri a posti, tutti. Siccome ha detto che è andato dall'epoca, che stavo giù, fosse un cancello, la cazza ha fatto la cosa, ha cascato un bacio per toglie. Iscriviti al canale